Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, brutte notizie per il divulgatore scientifico più famoso d'Italia, per il paleontologo, per il conduttore di Ulisse, il piacere della scoperta, ovviamente stiamo parlando di Alberto Angela, in questo video scoprirete cosa è successo, ma prima di iniziare vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 500 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, in tanti mi hanno contattato e mi hanno chiesto cosa stesse succedendo a Ulisse, il piacere della scoperta, e in questo video cerchiamo di fare chiarezza, sappiamo che Ulisse non andrà in onda mercoledì 12 maggio e sospeso, pertanto per due settimane Ulisse tornerà in onda il 27 maggio e il 3 giugno rispettivamente, con due puntate, una dedicata a San Francesco, l'altra dedicata all'ambiente, nel frattempo saranno trasmesse le repliche del commissario Montalbano, tanti credevano che inizialmente fosse un discorso legato ai bassi ascolti, ma i vertici Rai hanno smentito, rivedremo pertanto Alberto Angela il 27 maggio, amici youtube, grazie per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti!